Ancora scosse nella notte, 4.8 con epicentro macerata, la terra continua a tremare e i comuni dell'entroterra Aquilano e Terramano continuano a subire danni e non avere certezza sulla fine dell'emergenza. Il comune di Sulmona oggi fa il punto della situazione in un clima di continua incertezza. È uno dei territori sismicamente più pericolosi, quindi noi vogliamo proseguire con un discorso di prevenzione. Il presidente si è impegnato a stare vicino alla nostra comunità e quindi oggi parleremo anche di questo, su un progetto di un laboratorio sul Mona. È stata effettuata una stima approssimativa dei danni? Allora, rispetto a questi ultimi eventi, fortunatamente non ci sono stati dei danni rilevanti, però il nostro è un patrimonio antico e quindi molto vulnerabile da un punto di vista sismico, per cui dobbiamo lavorare proprio affinché non ci siano in futuro dei danni a causa di terremoti. Ancora stanotte abbiamo avuto delle scosse, quindi insomma ormai dobbiamo essere molto incisivi con una politica attiva, importante. Quali sono le priorità? Quella di conoscere esattamente le caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare e fare uno straordinario piano di recupero. Oggi abbiamo questa occasione, la dobbiamo cogliere prima che succedano poi disgrazie, poi si parli di ricostruzione. Noi vogliamo mettere in sicurezza, non ricostruire.